per me la fede ecco ero sempre pensata così è molto semplice un bambino nelle braccia del papà o della mamma basta è il mio papà che cosa devo avere paura di che lo dico a tutti quelli che vengono a confessarsi sempre ma di che cosa ti preoccupi oggi ho fatto il giro degli ammalati tutti quanti per tenerli su di giro uno c'ha una acciacola anch'io quando mi alzo sono pieno di acciacchi 81 anni oramai mi rodaggio quando faccio il segno di croce di signor che siamo mo vabbè diremmo innanzi cominciamo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo